un amico che vuole rimanere nell'anonimato più spinto mi ha consegnato questo oggetto chiedendomi se posso provare a ripararlo tutto a alan alabarte e anna power si tratta di un hard disk della western digital della serie my passport un oggettino da 4 tera bello compatto ovviamente sono già stati provati dei metodi software tramite i tool della western digital come il wd discovery e anche i tool dell'hard disk ma il problema qua è che l'hard disk non viene proprio riconosciuto cioè una volta che il cavo usb è collegato al computer non viene proprio visto come unità esterna ecco il cavo usb la luce bianca si accende si sente un piccolo rumore di parti meccaniche in movimento ma l'unità non viene riconosciuta neanche nella gestione disco di windows quindi quella che lavora a basso livello l'unico indizio che ci è stato dato è che è stato collegato probabilmente a una tensione fornita da un hub usb che era sovralimentato a 9 volt per cui probabilmente la tensione più elevata può aver causato dei danni all'interfaccia d'ingresso di questo hard disk giunti a questo punto decido di aprirlo sapendo benissimo che sarà il punto di non ritorno perché la garanzia eventualmente se dovesse coprire non sarà più valida considerati i dati che ci sono dentro e il costo di un eventuale recupero dati l'amico mi ha detto di procedere per aprirlo per aprire il case dovrò fare leva su questo bordino tramite una punta a taglio molto sottile utilizzo il mio kit per la riparazione dei telefoni scelgo una punta a taglio probabilmente quella da un millimetro che è abbastanza fine con delicatezza si scalza la parte del coperchio che ha incastro per cui nei vari punti si fanno delle piccole pressioni fino a che il coperchio non si alza del tutto una volta scalstrati tutti i rivetti si apre il coperchio ecco qua si vedono i punti di bloccaggio che erano semplicemente meccanici ed abbiamo accesso al disco facendo ulteriormente leva l'hard disk viene via completamente dalla sua scartola e vediamo che ci sono questi due gommini che lo tengono saldo vorrei sottolineare che fino ad adesso abbiamo fatto operazioni che non sono assolutamente invasive per il disco infatti non abbiamo aperto la parte delle parti meccaniche in movimento dove sappiamo esserci comunque una atmosfera non col vuoto ma comunque con pochissima polvere all'interno ecco che se fossimo intenzionati ad aprire questo coperchio dovremmo trovarci in camera bianca o comunque in un ambiente dove siamo sicuri che la polvere non c'è o ce n'è pochissima perché anche dei piccoli granelli di polvere potrebbero andare a corrompere le parti di lettura dei dischi che sappiamo essere molto veloci e molto delicate una cosa che può aiutare molto nell'indagine è ascoltare il rumore di questo hard disk per cui con un microfono andrò a sentire il rumore all'avvio colleghiamo il cavetto e sentiamo il rumore si sente questa specie di ronzio che però non è nominale cioè quando un disco parte si dovrebbe sentire un'accelerazione dei dischi e un rumore continuo senza ronzii quindi questo mi può far pensare che i dischi non partano proprio inoltre noto sull'attacco qua dell'usb una colorazione un po più scura come se quella parte avesse scalpato parecchio livello di connettore usb lato hard disk riconosco la parte piccola e grande quindi la parte piccola con 5 pin è quella dell'usb 3 0 con i pin dal 10 al 6 che sono rcv più meno ground segnal più segnal meno dalla parte di qua invece abbiamo la parte 2.0 dell'usb con il gnd l'ottg id data più data meno e il 5 volt sul pin 1 che è l'ultimo qua a destra per vedere se arrivano correttamente le tensioni vedo che qui ci sono dei test point con la scritta usb quindi vado a misurare fra il pin questo che è il ground e le varie pad vedo due volte e mezzo sulla prima 0.9 sulla seconda 0.3 questo qua 0.1 e questo 0.7 quindi sembra che tutte le tensioni siano correttamente presenti in scheda una cosa che non va assolutamente bene è la temperatura di questo connettore usb quindi qua è veramente caldo questo mi fa pensare che ci sia un cortocircuito in questa zona per cui posso rimuovere queste torx e estrarre la parte del pcb questa volta serve la torx t5 per andare a svitare le viti che fissano il pcb una volta tolte le viti l'unica cosa da fare è sganciare questo piccolo connettorino che è l'unica cosa che tiene ancorato il circuito stampato all'hard disk sul circuito stampato riconosciamo subito questo chip che è la memoria ed è un chip winboard w97 1gg che è una memoria ddr2 da 1 gigabit ed è quella che contiene il bios ossia il firmware che permette al controller dell'hard disk ad accedere ai dati riconosciamo poi questo chip che è l'usb 3 0 controller infatti è un chip di tipo as media invece questo è il controller del motore infatti è un chip marcato vd della western digital con il modello ref di in per trovare il guasto farò una prova molto semplice alimento il solo pcb mi si accende il led con la sua guida d'onda e vado a toccare col dito i vari chip ecco questo scalda veramente tanto e guarda caso è proprio l'usb controller e ci sta perché se è stata fornita una tensione superiore alla sua tensione massima nominale questo è il chip che è andato in tilt ed è quello che non mi permette più di far vedere l'hard disk al pc eseguo una misura di temperatura col multimetro della wellerman di cui ho fatto la recensione nel video 335 questo multimetro è estremamente economico ma mi permette comunque di fare anche un controllo semplice come quello della temperatura vado appoggiare la termocopia direttamente sul chip dell'usb controller e vediamo come la temperatura schizza quindi questo qua si è proprio fritto con la sovratensione fornita dall'hub difettoso si è rotta ovviamente l'interfaccia di comunicazione con l'hard disk per cui non avendo più la parte usb l'hard disk non può essere più visto dal computer arriviamo a circa 60 gradi se è andato in corto il chip dell'usb si spiega anche questo colore scuro sulla parte diciamo di massa del connettore dell'usb e qua arriva circa 46 47 gradi per la riparazione a questo punto abbiamo due strade o ci procuriamo questo usb controller smd e con il microscopio e molta molta pazienza si prova a dissaldare a sostituirlo oppure via più semplice forse tramite il qr code di questo pcv si va a cercare la spare part per questo hard disk e si recupera così l'hard disk completo io sono praticamente certo che una volta riparato questo guasto i dati sull'hard disk saranno sicuramente recuperabili ma soprattutto l'hard disk potrà essere completamente ripristinato perché questo è il classico guasto in cui questo componente ha fatto da vittima e salva tutto il resto infatti la parte degli altri chip risulta essere operativa adesso chiederò all'amico cosa vuole fare e niente per questa sera è tutto io vi saluto spero che il video vi sia stato utile come sempre ciao e alla prossima ciao 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 ciao